Non ci credo, c'è un posto libero per il darby, per la mia moglie, mi è saputo nuovamente e appena morta. Mi dispiace tanto eh? Sì, non mi si è mai perso a una partita, no? Ma non aveva qualche amico o familiare conoscente, qualcuno che voleva il suo biglietto, no? No, sono tutti dal funerale. Football Italia, back soon for another unmissable season, live on Bravo.